Il 12 maggio sarà inaugurata un'opera molto importante per i residenti Lericini, un sottopassaggio pedonale ricavato dal vecchio rifugio antiaereo, che collegherà via Gerini e via Cavour, molto importante perché renderà collegati i servizi principali, quali le scuole, il comune, l'asle, i supermercati. Sì, un'opera molto importante sotto il profilo logistico, perché consentirà alla parte di via Petriccioli, la parte est di Lerici, di avere un collegamento diretto con quelle che sono le infrastrutture relative ai servizi più importanti, municipio, scuole, elementari e medie e l'asle. Allo stesso tempo consentirà a chi vive nella zona di via Gerini, la parte ovest di Lerici, di avere un collegamento diretto con i supermercati, con la zona commerciale del nostro comune. Però è un'opera importantissima proprio per quel che riguarda il nostro spirito locale, perché è una di quelle cose di cui si è parlato per decenni, che è sempre stata annunciata, oggi viene realizzata, e quindi questo è per tutti noi, i Lericini, l'idea che le cose si possono fare, che se c'è la volontà, lo spirito giusto, l'amministrazione, gli impegni li porta avanti veramente e i sogni possono diventare realtà. Questo è un sogno che diventa realtà. Penso che sia la funzione più importante per Lerici di quest'opera pubblica. Qual è stato l'investimento per rendere possibile quest'opera? Complessivamente sono 330 mila euro che sono quasi completamente finanziati attraverso Mutuo. È un'opera che è stata, il cantiere è stato aperto il 15 di ottobre, doveva essere concluso per il 24-25 di marzo. Abbiamo fatto qualche opera in più, soprattutto sotto il profilo strutturale, e insomma dal 12 di maggio siamo pronti a organizzare una bella inaugurazione. A chi sarà intitolata quest'opera? Un nome a cui a me come sindaco piacerebbe intitolare la piazza è quella del comandante Francesco Tarabotto, perché Francesco Tarabotto è forse il ricino più illustre che abbiamo, l'uomo che ha guadagnato il nastro azzurro con il Rex e che ha collegato le due sponde dell'Atlantico. In questo caso questa galleria collega le due parti di Lerici, c'è quindi un po' che idealmente potrebbe essere il nome più giusto, ma saranno poi i lericini a scegliere. Magari piazzetta Tarabotto potrebbe essere intitolata al senatore Bibolini, che anche lui meriterebbe un ricordo per quello che ha, il ruolo che ha avuto anche nella storia della nostra comunità. Grazie a tutti.